Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Oggi è il grande giorno per Paolo Di Bala e Oriana Sabatini. La coppia si scambia promesse d'amore eterno nella splendida tenuta di Doc Aras, vicino a Pilar, in Argentina. Circondati da 300 invitati, gli sposi hanno voluto che la cerimonia fosse autentica e intima, chiedendo agli ospiti di non usare smartphone per scattare foto o video. L'atmosfera si preannuncia magica e indimenticabile. Oriana sarà affiancata da 16 damigelle e indosserà una fede realizzata dalla sorella, Tiziana, graphic designer. La torta nuziale, creata dal famoso chef argentino Damien Betular, sarà un altro punto forte della giornata. Tra gli ospiti di Spicco, ci saranno molti calciatori, artisti e VIP, inclusi Leandro Paredes e la moglie Camila Galante, amici intimi degli sposi. Oriana ha rivelato che nel banchetto non mancherà il vino di Paredes, un tocco speciale che renderà la festa ancora più personale. La proposta di matrimonio è stata un vero momento da film, Paolo ha chiesto la mano di Oriana durante una serata romantica a Roma, davanti alla fontana di Trevi, con amici come Leandro Paredes, Alvaro Morata e Alice Campello a fare da testimoni. La risposta di Oriana? Un entusiasta, sì, lo voglio. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.